Anticipazioni Terra Amara, da lunedì 12 a giovedì, 15 febbraio. Nel cuore della notte, un episodio carico di tensione prende vita. Zuleya si trova faccia a faccia con l'inaspettato. Un uomo misterioso, Hakangu Musoglu, irrompe nella sua stanza, avvolgendola in un silenzio carico di tensione. Non avere paura, le sussurra, con parole che risuonano di mistero tanto quanto la sua improvvisa apparizione. Fikret, l'amico fedele e protettore di Zuleya, sente il peso dell'angoscia nel suo cuore. La sua preoccupazione si trasforma in azione, interroga Zuleya, prontamente si mette sulle tracce di Hakann, determinato a svelare il vero scopo dietro la sua visita notturna. Ma Hakann è un fantasma tra le ombre, scomparendo nella notte con la stessa rapidità con cui è apparso, lasciandosi dietro solo domande senza risposta. In un momento di rivelazione, si toglie la maschera, un gesto che svela la sua identità, ma nasconde ancora i suoi segreti. La scena si sposta in un luogo di quiete e riflessione, il cimitero. Qui Hakann si confronta con il dolore più profondo, quello per la perdita della sorella Julia, strappata alla vita da una malattia crudele. La sua offerta, una rosa posata sulla tomba, è un tributo silenzioso, un ponte tra il dolore e il ricordo. Questo nuovo episodio ci trascina in un vortice di emozioni, dove il coraggio di Zuleya e la dedizione di Fikret si scontrano con i misteri che avvolgono Hakann. Nelle strade di Chukurova, il brusio della gente si fa eco di una vicenda che tiene tutti con il fiato sospeso. I pettegolezzi corrono veloci, alimentati dalle ultime notizie che riguardano Zuleya, Sermin e Betul. È una battaglia di narrazioni, ma una cosa è chiara. La comunità ha scelto la sua eroina, credendo fermamente nella dignità inattaccabile della dama di Chukurova. Questa fiducia nel suo carattere e nelle sue azioni la rende invincibile agli occhi del popolo. La situazione prende una svolta inaspettata quando Sermin, sfogliando le pagine del giornale mattutino, inciampa sulla notizia che Zuleya ha convocato una conferenza stampa. È lì che le accuse vengono lanciate senza esitazione contro le presunte truffatrici. Sermin è sconvolta e il senso di impotenza si fa strada quando realizza l'ampiezza del sostegno che Zuleya ha raccolto attorno a sé. Betul, in preda alla disperazione, esprime il suo dolore per il crescente successo di Zuleya. Tra le lacrime, confessa il suo senso di inferiorità, l'amara realtà di non poter competere con la stima e l'affetto che Chukurova riserva a Zuleya. Eppure, nonostante il cuore infranto, Sermin trova la forza di incoraggiare Betul, instillando in lei la determinazione di continuare a lottare, di non arrendersi fino all'ultimo respiro. In questo clima di tensione e aspettative, Fikret e Zuleya fanno ritorno a casa, portando con sé il peso emotivo del funerale della sorella di Hakann. Zuleya, ancora sotto l'impatto dell'incontro con Hakann Gumusoglu, condivide con Fikret i dettagli di quell'episodio, rivelando come Hakann stesso le abbia confidato di aver assistito al funerale e di aver visto da lontano la tristezza di Zuleya per la morte di Hulia. Una volta tornati alla tenuta Yaman, Lutfi, ascoltando la narrazione di Zuleya, si trova di fronte a una rivelazione inattesa, un pezzo del puzzle che aggiunge ulteriori sfumature alla figura di Hakann, un uomo avvolto nel mistero ma capace di gesti di inaspettata umanità. La scena si sposta su un personaggio che irrompe con forza nella narrazione. Hazmet Kolak, un uomo dal passato oscuro e sinistro, emerge dalle ombre della prigione, accolto nella luce del sole da un figlio leale. Il rientro di Kolak non passa inosservato. Lungo il percorso verso casa, un'accoglienza degna di un re lo attende. Tamburi riecheggiano nell'aria, mentre i suoi uomini lo salutano, un chiaro segnale che Kolak non è un uomo qualunque, ma un personaggio la cui influenza si estende ben oltre i confini della legalità. I sussurri, tra i cittadini di Chukurova, rivelano il motivo della sua incarcerazione, otto vite spezzate per aver osato sollevare la voce contro di lui su questioni di terra. La sua libertà segna non solo il ritorno di un uomo, ma il risveglio di un potere che molti temevano fosse stato seppellito. Il suo arrivo a Chukurova è marcato da una parata non ufficiale, un convoglio di auto che testimonia la sua forza e il suo status. Kolak non è qui per rivendicare solo la sua posizione, è qui per inviare un messaggio chiaro. La paura sarà la consigliera di coloro che hanno ambito alla sua proprietà. Questa dichiarazione, fatta con la sicurezza di chi sa di essere al di sopra della legge, riporta un'ombra cupa sulla comunità che aveva iniziato a sperare in un futuro senza la sua minaccia. In netto contrasto con il ritorno minaccioso di Kolak, la vita continua a fiorire altrove. Gaffur, in un gesto di pura gioia, svela a Sagné e Uzum la nuova casa che ha acquistato per loro. Questo momento di felicità condivisa, lontano dalle macchinazioni oscure di Kolak, offre una boccata d'aria fresca e un promemoria che, nonostante le difficoltà, ci sono sempre motivi per sperare e costruire un futuro. Altrove, Gulten e Shetin vivono un momento di pura meraviglia, la visita al medico per il controllo della gravidanza diventa una celebrazione della vita che cresce. Il suono dei battiti del cuore del loro bambino è una melodia che promette nuovi inizi, rinnovando la loro gioia e l'attesa di abbracciare il ruolo di genitori. Questi frammenti di vita a Chukurova tessono insieme la complessità di un mondo dove la luce e l'oscurità, la gioia e il dolore coesistono, ricordandoci che, nonostante le tempeste, ci sono sempre luoghi di rifugio e momenti di speranza che ci guidano attraverso la notte. Nel cuore pulsante di Chukurova, il club diventa scenario di un incontro denso di tensioni e rivelazioni. Il sindaco, insieme a Zuleia, Lutfie e altre eminenti signore della comunità, è immerso nei preparativi del Festival del Cotone, un evento che promette di rianimare lo spirito e l'orgoglio della città. Lutfie, con la responsabilità dell'organizzazione gravata sulle spalle, si trova ad affrontare una sfida inaspettata quando Hasmet Kolak, figura imponente e controversa, fa il suo ingresso. Il sindaco, in un gesto di riconciliazione o forse di cautela, accoglie Kolak, presentandolo alle signore come un vecchio abitante di Chukurova recentemente ritornato alla libertà. La spiegazione del sindaco sul passato carcerario di Kolak, descritto come un malinteso nonostante l'evidente gravità dei suoi crimini, solleva un velo di tensione nell'aria, lasciando trasparire la speranza, forse vana, che l'uomo possa essere cambiato. In questo clima già carico, Sermin e Betul fanno irruzione, superando le resistenze all'entrata con la determinazione di chi si sente ingiustamente accusato. Sermin, con la furia di chi si vede attaccata nel proprio onore, affronta Zuleia, accusandola pubblicamente di menzogne attraverso le pagine di un giornale lanciato sulla tavola come un guanto di sfida. La calma e la compostezza di Zuleia, segni distintivi della sua personalità, emergono con forza nella risposta che dà a Sermin, invitandola a lasciare la scena prima di subire ulteriori umiliazioni. La tensione raggiunge il suo apice quando Betul, in preda alle lacrime, lancia un'accusa disperata contro Zuleia, sostenendo di essere stata manipolata nella vendita delle terre e derubata del denaro guadagnato. Zuleia, lontana dall'essere sopraffatta, risponde con la forza della verità, brandendo documenti che smascherano le falsificazioni di Betul. La sua fermezza non solo mette in luce le menzogne tessute contro di lei, ma avverte anche dell'esistenza di ulteriori prove. Un chiaro segnale che la battaglia per la verità è appena iniziata. Questo confronto al club non è solo una disputa personale tra figure in contrasto, è lo specchio di una comunità che si trova a fare i conti con le proprie contraddizioni, con la lotta tra verità e menzogna, integrità e disonestà. Mentre Ciuqurova si prepara al festival, simbolo di unione e celebrazione, le sue fondamenta sono scosse da conflitti che minacciano di alterare profondamente il tessuto sociale della città. Il capitolo si chiude su un confronto carico di tensione tra Zuleya e Hazmet Kolak, l'uomo che incarna il potere e le ombre di Ciuqurova. Kolak, con l'arroganza di chi si è sempre considerato al di sopra di ogni legge, entra nell'ufficio di Zuleya rivendicando un titolo che nessuno gli ha contestato per anni, quello del più grande signore di Ciuqurova. La sua richiesta è audace quanto il suo ingresso, vuole indietro le terre che Demir, il defunto marito di Zuleya, gli aveva sottratto ingiustamente. Kolak, trovando Zuleya vedova, pensa di poter giocare sulla compassione, o forse, sulla presunta debolezza di una donna sola. Ma Zuleya, con fermezza, non solo respinge le sue pretese, ma lo mette anche alla porta, sfidandolo a cercare giustizia in tribunale, se osa. La minaccia velata di Kolak non scuote Zuleya, che rimane salda di fronte all'uomo che molti temono. Questo momento non è solo un confronto tra due forti personalità. È l'affermazione di Zuleya come pilastro di integrità e coraggio in una comunità che troppo spesso ha chinato il capo di fronte al potere e alla corruzione. Mentre il capitolo si chiude su questa scena carica di promesse di future battaglie, un nuovo inizio attende Zuleya e Mehmet nelle terre degli Yaman. Mehmet, con gli occhi pieni di sogni e il cuore gonfio di speranze, condivide con Zuleya il progetto di una vita insieme, lontani dalle ombre che aleggiano su Chukurova. Parla di una casa, di figli e di un futuro ricco di possibilità. Zuleya, contagiata dall'entusiasmo e dall'amore di Mehmet, accoglie con gioia la prospettiva di un matrimonio imminente. La semplicità e la purezza di questi momenti, tra Mehmet e Zuleya, sono un richiamo potente alle cose davvero importanti nella vita. Al di là delle complessità e delle sfide che Chukurova continua a presentare. Ma mentre Zuleya e Mehmet tessono sogni di felicità futura, altrove si svolge una trama oscura che minaccia di intrecciarsi con il loro destino. Betul, in una scena carica di tensione e inganno, dimostra fino a che punto è disposta a spingersi per raggiungere i suoi scopi. La sua visita a casa di Vahap si trasforma in un gioco pericoloso di seduzione e manipolazione. L'uso di un sonnifero nella bevanda di Vahap, un atto che sconfina nel crimine, sottolinea la disperazione e la determinazione di Betul di ottenere ciò che vuole, costi quel che costi. Il suo obiettivo diventa chiaro quando, approfittando dell'incoscienza di Vahap, Betul richiede di vedere un video compromettente che coinvolge Fikret. Questa richiesta non è casuale, ma fa parte di un piano più ampio che Betul sta architettando. Il video, che presumibilmente mostra Fikret mentre compromette i camion di Zuleya con della droga, è un pezzo cruciale nella sua strategia per screditare e forse distruggere coloro che percepisce come suoi avversari. Questo episodio, con le sue due narrazioni parallele, Chi mostra i contrasti della vita a Chukurova. Da una parte, l'amore e la speranza che fioriscono nelle terre degli Yaman, dall'altra, il gioco pericoloso di potere e vendetta che si svolge nell'ombra. La determinazione di Betul di usare ogni mezzo a sua disposizione per raggiungere i suoi scopi lancia un sinistro presagio sul futuro, suggerendo che la strada verso la felicità per Zuleya e Mehmet potrebbe essere tutt'altro che semplice. Vahap, caduto nella trappola tessuta con maestria da Betul, si ritrova a condividere con lei momenti di apparente confidenza davanti a un video che potrebbe cambiare le sorti di più di un destino a Chukurova. Mentre le immagini scorrono sullo schermo, le parole di Vahap rivelano una verità manipolata. Il video è stato alterato per mostrare ciò che non è. Questa confessione, fatta forse nella speranza di impressionare Betul o semplicemente come commento distratto, svela l'estensione della congiura contro Fikret. Betul, con la freddezza di chi ha già pianificato ogni mossa, continua a giocare la sua partita di seduzione, mantenendo viva l'attenzione di Vahap con promesse velate e sguardi carichi. Vedremo, dice, lasciando nell'aria una promessa di cose non dette, di piani che si dipanano nell'ombra. Il sonnifero, versato con calcolo e precisione nella bevanda di Vahap, inizia a fare effetto, e lui cade nel sonno più profondo, inconsapevole della tempesta che sta per abbattersi sulla sua vita, e su quella di Fikret. Betul, con un'efficienza spietata, si impossessa del video, un trofeo della sua astuzia e della sua determinazione a vendicarsi. Mentre si allontana in macchina, il suo pensiero si focalizza su Fikret, l'obiettivo della sua vendetta. Le parole che sussurra nel silenzio dell'auto non lasciano spazio a dubbi sulle sue intenzioni. Fikret deve pagare, e lei farà di tutto per assicurarsi che così sia. Questo momento segna un punto di svolta nella narrazione, svelando fino a che punto il desiderio di vendetta e il bisogno di affermare il proprio potere possano spingere una persona. Betul, armata di un video manipolato e di una determinazione incrollabile, si appresta a scatenare una tempesta che potrebbe travolgere innocenti e colpevoli senza distinzione. La vicenda di Betul e Vahap, così come il piano ordito contro Fikret, illustrano vividamente le dinamiche di potere e manipolazione che animano il cuore di Chukurova. La tensione cresce quando Zuleya, attraverso le parole di Sagnè, scopre l'ennesimo atto prepotente di Kolak, l'aver sottratto il frutto del duro lavoro dalle terre degli Yaman. La reazione di Zuleya è immediata, una decisione che sottolinea la sua determinazione e il suo coraggio. Decide di portare il caso davanti alla giustizia, sfidando apertamente Kolak e i suoi metodi. La sua scelta di denunciarlo al procuratore non è solo un atto di difesa dei propri diritti, ma anche un messaggio chiaro alla comunità di Chukurova. Non si può tollerare l'ingiustizia e nessuno è al di sopra della legge. Nel frattempo, la realtà si abbatte su Wahab come un peso insopportabile. Il risveglio, con il mal di testa a ricordargli le conseguenze fisiche del tradimento di Betul, è solo l'inizio della sua discesa in un abisso di realizzazioni amare. La scoperta che il video, pezzo centrale della loro macchinazione, è sparito, insieme alla presa di coscienza di essere stato ingannato, lo getta in uno stato di rabbia e confusione. La sua corsa verso Betul, guidata da un misto di furia e disperazione, si infrange contro la rivelazione che lei e Sermin sono scomparse, sparite senza lasciare traccia. Questo dettaglio viene rivelato da una vicina di casa. Betul, con un'azione che mescola astuzia e disperazione, decide di portare la sua battaglia contro Fikret a un nuovo livello, inviando in modo anonimo alla procura il video manipolato. Questo gesto non solo dimostra la sua volontà di agire nell'ombra, ma evidenzia anche la gravità delle accuse che sta cercando di far pesare su Fikret un tassello cruciale nella sua vendetta. Nel frattempo, l'atmosfera si fa più leggera e carica di aspettative al club, dove Zuleya e Mehmet sono immersi nei preparativi del loro matrimonio. Questo momento di felicità condivisa, però, è presto interrotto dall'apparizione di Fikret. La sua presenza e il rifiuto di accettare l'invito al matrimonio, accompagnato da un avvertimento a Zuleya sulle vere intenzioni di Mehmet. Fikret, con le sue parole, sembra cercare di proteggere Zuleya da quello che percepisce come un imminente pericolo. Il contrasto tra la serenità e l'ottimismo del giorno del matrimonio di Zuleya e l'improvviso arresto di Fikret è stridente. Zuleya, nel suo abito da sposa, incarna la gioia e la speranza di un nuovo inizio, circondata dall'amore dei suoi figli e dell'intera comunità. Quest'immagine di pura felicità fa da contrapunto drammatico alla scena successiva, quando la procura, avendo ricevuto il video da Betul, agisce con rapidità, arrestando Fikret per traffico di droga. L'accusa, basata su prove manipolate, getta una macchia oscura sulla celebrazione del matrimonio e sulle vite di tutti i coinvolti. L'arresto di Fikret rappresenta non solo la caduta di un uomo, ma anche l'ennesima dimostrazione di come la verità possa essere facilmente distorta da chi ha abbastanza risorse e astuzia per manipolare le percezioni. Terminano qui le anticipazioni di Terra Amara. Vi ricordo che giovedì 15 febbraio c'è l'appuntamento serale di Terra Amara. L'appuntamento di giovedì ci riserverà un'amara sorpresa. Come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere un bel like al video.